A proposito del buon vecchio zio Martin, creato dal buon vecchio zio Alfred Castelli, ovvero parliamo di Martin Mister, di cui ho recuperato anche proprio oggi il numero 374, Il ritorno della Dea, che in verità è la seconda parte di un'unica storia, però sono curioso di leggere, anche perché era l'ultimo numero di quando Martin era ancora bimensile, bimestrale. Una bella storia, sempre scritta da Castelli. A proposito di Martin Mister e della sua nuova formula che va avanti già da tre mesi, tra pochi giorni dovrebbe uscire il quarto numero, che sarà poi il seguito di questa storia sul vampiro di Vienna. Si dovrebbe intitolare Gli Uomini in Rosso, una cosa del genere. Si uscirà il 12 agosto. Io saluto caldamente il mio amico youtuber fumettoso Sebi Recensioni Scarse nella sua amata Sicilia, dove si sta rilassando, come ti invidio. Ripeto, Martin Mister a me mi sta soddisfacendo alla grande. Belle storie, tipo pure quest'ultima scritta da Davide Barzi, disegni di Walter Venturi. Venturi quello che ha fatto diverse cose, pure su Zagor, su Cico, disegni bellissimi. Una bella storia sui vampiri, che però prende poi anche altre ambientazioni, cinema e altro. Quindi un Martin Mister che mi sta piacendo alla grande. Sia il numero 80 anni fa scritto da Castelli, sia il numero, come ai vecchi tempi, scritto da Recagno, cioè l'altro curatore, sia questo di Burzo, che avrà il seguito nel mese prossimo. E per quanto riguarda il romanzetto di Carlo Andrea Cappi, Il Potere del Falco, mi sta piacendo fondamentalmente perché c'è un sacco di belle citazioni, pulp, noir, chi più ne ha più ne metta. Forse è questo che me lo sta facendo piacere, soprattutto. Questi giornaletti pulp di cui parla. Addirittura qua c'è anche una citazione del personaggio di Tex Wheeler, Kit Carson. Insomma, è bello anche perché riesce ad essere molto citazionista e compagnia bella. Forse questo è il motivo che mi lo sta assolutamente piacendo. Forse se c'avevo un'altra ambientazione, tipo fantascienza, può essere che non mi sarebbe piaciuto. In ogni caso, io sto apprezzando un po' tutto il formato e tutti i contenuti, insomma, del mensile di Martin Mister. Forse sarò uno dei pochi che non soffrirà fino ad aprile per questo romanzetto, anzi, me lo godo passo dopo passo. Vabbè, in ogni caso, un saluto a tutti, a Sebi, a tutti e viva Martin Mister!